Con i fuochi d'artificio si possono dire un sacco di cose. Se questo film fosse un fuoco d'artificio, cosa direbbe e quali colori utilizzerebbe? Direbbe musica, libertà, gioia e improvvisamente paura. E il colore potrebbe essere un rosso all'inizio e un bianco accecante quando inizia una paura accecante per questi due ragazzi. Quando ho visto il film e ho visto nascere questa amicizia inizialmente che poi sfocia in un sentimento più importante, ho riflettuto sul fatto che forse l'adolescenza è quel momento della vita in cui per la prima volta conosciamo un amore, un amore molto pulito, molto casto, che però per quanto riguarda poi i ragazzi a un certo punto deve eliminare la parte tenera, la parte di contatto fisico, come se ci fosse una pressione esterna che ai ragazzi non permette di continuare ad avere quell'intimità. È qualcosa che tu nella tua vita hai avvertito o la tua generazione pensi che sia già un pochino più avanti rispetto magari anche semplicemente a quella dei tuoi genitori? Sì, sicuramente il tipo di amore che raccontiamo nel film è quello che sento più vicino a me, ma non più vicino alla mia generazione. C'è tutto quell'aspetto della sessualità che ora è proprio, come posso dire, diciamo regalato possiamo dire, nel senso che ci sono una serie di tappe che magari molto spesso vengono bruciate. Noi raccontiamo un tipo di amore puro, che è quello che vivo io e che mi piace vivere a me. Il bar, la processione, le fiere, i pomodori al sole, c'è tanta, Sicilia, c'è la natura. Questo film è anche un atto d'amore per un periodo della tua vita? Sì, per quegli anni dove sembravano più belle le cose, ma lo dice un uomo di questa età ovviamente, sembravano più belle e poi in realtà non è così, perché la vita è bella quando la percorri in quell'attimo stupendo che è l'adolescenza appunto, e poi quando passano gli anni ti ricordi di quei momenti e ti sembrano bellissimi e te li ricordi stupendi. Quegli anni erano belli, sono stati degli anni molto belli e li ho voluti fotografare e mettere nel film che rimanessero per sempre così come li ricordavo io. Questo è un film che è ambientato negli anni Ottanta ma è estremamente attuale, basta insomma sentire anche quotidianamente la cronaca per avere a che fare con delle storie abbastanza simili. Avete sentito un certo senso di responsabilità nel raccontare questa storia? Io assolutamente sì, è un film che è liberamente ispirato ad una storia vera e appunto raccontare questa storia che ha generato tanto per i diritti e per la società che è oggi mi sono sentito quasi un rappresentante di un qualcosa che esiste, e quindi no, è stato impegnativo, è stato bello. Ma io invece percorrevo la strada del racconto e non volevo sentire quella responsabilità perché in me è sempre stata chiara l'idea di fare un film non tematico, non politico e non di denuncia, insomma volevo fare un film che avesse un'espressione libera e poetica attraverso la quale poi magari sicuramente ognuno di voi, del pubblico, si farà una propria visione, è un giudizio universale inteso come universale può essere la tematica che veicola, però mi piace, mi inseguiva quotidianamente un pensiero, il rispetto per i due ragazzi che hanno vissuto realmente questa cosa e noi la stavamo riproponendo nella finzione cinematografica e mi bussava sempre alla testa appunto l'idea di rispettare anche le persone che ancora oggi sicuramente vivono quel dolore e per questo ho anche scelto una zona diversa dove ambientare la storia, non ho girato nella città dove è successo il fatto reale, mi sono spostato perché mi sembrava più discreto così. L'ultima curiosità, il poster mi ricorda l'ultimo film di François Auzon, non so se c'è la volontà di omaggiarlo o se arriva da un'altra parte l'ispirazione per quest'immagine. Sono onorato di quello che mi dici, però arriva da un'altra parte in realtà l'ispirazione, arriva veramente da un luogo che conosco, che è questa strada che unisce Marzamemi a Portopalo di Capopassero ed è una strada che conosco bene, che mi ha sempre affascinato perché questo Cavalcavia, diciamo che sta proprio su una spiaggia molto bella, è un contrasto tra quegli aspetti tipici della mia terra che molto spesso coniugano nella stessa inquadratura, era un posto molto bello, magari con qualche cosa di bruttarello che fece lo scempio edilizio degli anni 80-70, quella roba lì, quindi mi affascinava questa cosa qua, quindi ero attratto proprio dall'immagine di questa immagine e dei due ragazzi soprattutto che proponevano una libertà senza per forza dare l'espressione fotografica. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.